con grande facilità e in modo molto perfluente facciamo una lettura superficiale della parola di dio come quella del vangelo di oggi qui diamo una lettura prettamente moralistica leggiamo in essa un processo di correzione fraterna in modo graduale e pedagogico a tal punto che se una persona non ascolta la comunità va considerato pagano pubblicano ovvero scomunicato questo è significato cui spesso si dà perdendo invece ciò che il vangelo ci vuole dire che troviamo in fondo alla fine di questo testo e cioè qui leggiamo che se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa il padre mio che nei cieli gliela concederà perché dove due o tre sono uniti nel mio nome lì sono io in mezzo a loro cioè è la comunione io cerco di recuperare l'altro ma non solo per correggerlo non solo perché si è allontanata la verità perché l'altro per me è caro l'altro è importante il fatto di dire che pubblicano o pagano significa che posso salvare l'altro soltanto se entro in un processo di gratuità in cui non mi aspetto nulla dall'altro ma devo recuperare l'altro ecco perché la prima lettura in ezechiele si parla di responsabilità tu sei custode dell'altro ed ecco perché paolo ci dice che la pienezza la legge la carità e l'amore e la comunione ciò che ci distingue come cristiani buona missio grazie a tutti